Sarti. La signora Fedeli e i suoi due figli, Sandro e Rossanna, che come giraffe sbattevano la testa sul soffitto e mordevano lampada ed intonaco, vanda lì al principiar delle casette, erano esperte nelle loro arti, però del vero umbriferi prefazzi. Per questo vero bisognava scendere, andare in piazza dal signor Tarducci, col metro eterno e il gesso inconsumabile, e con l'unghia lunghissima del mignolo tracciava linee e segni cabalistici, la mia coscia incideva e la mia spalla per fare uscire il Dio che nascondevo.